Ciao e benvenuti nel nostro canale. Recitiamo la preghiera al prezioso sangue di Gesù, ma prima vi chiediamo di iscrivervi al canale e lasciare un commento. Ci aiuterai a diffondere i nostri messaggi ai fedeli. Preziosissimo sangue di Gesù, guariscimi. Preziosissimo sangue di Gesù, purificami. Preziosissimo sangue di Gesù, liberami. Preziosissimo sangue di Gesù, lava i miei pensieri. Preziosissimo sangue di Gesù, purifica questa situazione che sto vivendo. Preziosissimo sangue di Gesù. Preziosissimo sangue di Gesù. Preziosissimo sangue di Gesù. Gesù, abbi pietà di me. Grazie per averci seguito, se il video ti è piaciuto, ti invitiamo a iscriverti al canale e mettere un mi piace a questo video.